Novità nel marmo, una delle colonne dell'economia della Versilia alla Savema, uno dei big della Pidio a Pietrasanta, una novità robotica che renderà più automatizzato il lavoro. Sentiamo. D'ora in avanti alla Savema di Pietrasanta la lavorazione al taglio del marmo ci penserà il robot. Appena inaugurato è già operativo il nuovo impianto altamente tecnologico e automatizzato. Un investimento che risponda ai canoni di Industria 4.0 e che proietta ancora di più l'azienda verso il futuro, al fine di garantire delle procedure più evolute, più rapide e più sicure. Primo nel suo genere il nuovo impianto consentirà anche la movimentazione del materiale senza l'ausilio di mezzi di sollevamento a conduzione manuale, che comportano rischi per la sicurezza degli operatori. Si tratta di un'installazione con componenti tecnologicamente all'avanguardia che utilizzano sistemi di costruzione in uso nella robotica. Un nuovo passo verso il futuro, commenta il sindaco Alberto Giovannetti, che vuole dare continuità ad un percorso iniziato dalla precedente amministrazione. L'obiettivo è quello di agevolare gli investimenti ed andare incontro alle esigenze delle imprese e dei nostri imprenditori. E restiamo a Pietrasanta perché sono addirittura di arrivo i lavori di...